Bentornati al Palavella di Torino, seconda parte delle Golden Skate Awards che inizia proprio in questo momento. Fra poco ritroveremo in pista Salamayers, Pallambiel, Johnny Rochette, Pang e Tong, Jeffrey Battle, Samchenko e Zolkovi, Valentina Marchani, insomma tutti i grandi protagonisti di questo show. Uno show che ha anche questa piccola tradizione di presentare certamente una specialità che ha un alto tasto di spettacolarità, cioè il patinaggio sincronizzato e allora l'apertura della seconda parte del Golden Skate Awards di quest'anno è per le Shining Blades, Why Don't You, il pezzo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.